Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Sekbent Gamer e oggi vi farò vedere come salire di coppe stravelocemente Allora, prima di tutto prendete un brawler che ha almeno grado 1, 2, 3, 0 non funziona, andate in una singola e avviate la partita Allora, dovete avere un brawler e così vi dà più coppe, guardate, un brawler di almeno livello 1, 2, 3, ecco In questo caso ho scelto Barring, ce l'ho di grado 3, non interessa il livello, potete averlo anche livello 20 L'importante è che ce l'avete di grado 1, 2 o 3, se no non vi funziona In questo caso ho scelto Barring, allora dovete prendere un po' di questa energia Se volete anche vincerla E stare camperati per un bel po' In questo caso mi sono fatto uccidere, guardate, adesso Sesty vi dovrebbe dare meno coppe E invece vi fa salire di coppe Ve lo consiglio, sto trucchetto Adesso ve lo faccio vedere anche con Pocho, guardate, e vi fa salire Intanto prendeci la cassa, cosa troviamo? Bull e Shelly Uh, 3, guardate, eh, vado, tipo, prendo... No, lei no, perché il grado è intanto però la miglioro Prendo Pocho, lo miglioro Anche se è livello 4 Non interessa quello L'importante è il grado Allora adesso andiamo Andiamo in partita Guardate Ok, sono morto quando c'erano 8 persone Guardate E se è arrivato a primi vi da un più 8 Anche più 9, credo Se ce l'avete al grado 1 mai usato Quindi Mi raccomando Funziona solo in solitario Perché se siete a coppie avete il vostro compagno Quindi no La tattica è prendere 2 di energia Anche 1, va bene E camperare fino alla fine, guardate Funzionerà Ah, quello mi chilla male Quello secondo me vince Bonnie vince secondo me E io vedo qua E sto calmo Aspettiamo fino alla fine Fino alla fine E vediamo cosa può succedere Ecco ragazzi Ci hanno scoperto Scappiamo Ecco 1 contro 1 Guardate Adesso mi da un più 7 Un più 6 Più 7 Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Delle notifiche Per non perdervi Nessun mio video E Ciao